Siamo qui con Zomegnano del CRC, un'ottima partita, è arrivata la vittoria, si è dato prima il vantaggio, poi avete subito la tolla del pareggio, avete magari anche un po' accusato qualche minuto, poi siete riusciti fuori e avete conquistato la vittoria. Sì, è una partita molto difficile, dall'altra parte c'erano parecchi ragazzi giovani, abbiamo trovato difficoltà dal secondo tempo, all'inizio noi eravamo parecchio rimaneggiati, avevamo l'assenza degli attaccanti, anche se non li abbiamo fatti in piangere oggi. Però, logicamente, con l'inizio degli altri 45 minuti ci siamo trovati un po' sotto gamba e abbiamo subito prima il pareggio e poi anche un controviere pericoloso, poi ci siamo risistemati e abbiamo riequilibrato le distanze tra noi e loro e siamo riusciti a trovare il gol della vittoria. Complimenti per la vittoria e grazie a Zomegnano. Grazie a voi.